Mancano ancora alcuni giorni ma è già un San Silvestro da tutto esaurito per gli hotel a retini almeno secondo l'indagine di Confcommercio fra le strutture ricettive del capoluogo. Gli ospiti saranno italiani al 100% in viaggio di gruppo all'80% e il cenone già prenotato magari nello stesso hotel del pernottamento. La durata media della permanenza è di una o due notti al massimo, la notte da tutto esaurito è quella del 31. Gli alberghi più grandi sono al completo già prima di Natale, le dice la responsabile dell'area turismo di Confcommercio Laura Lodone. Siamo in linea con le performance di fine anno del 2015 con una sola differenza, un lieve rialzo delle tariffe medie di vendita delle camere di circa un euro. Troppo poco per parlare di un graduale riposizionamento delle destinazioni a rezzo sul mercato turistico. Per accrescere il valore ci vuole tempo e si devono ancora recuperare i 10 euro di tariffa media persi negli ultimi anni, ma è comunque un piccolo segnale di speranza per il settore. Resta comunque sempre secondo Confcommercio la difficoltà di censire nei dettagli la presenza degli individuali drenati dai tanti B&B e delle camere in affitto che si sono affacciate sul mercato in maniera sempre più massiccia anche ad Arezzo.